ciao a tutti in questo nuovo blog adesso faccio la barba e faccio la barba e faccio la barba e faccio la doccia e se temo il mio letto perché devo stare dei video e ce ne vedo dopo come potete vedere adesso si temo letto perché fa veramente non va bene per canale per youtube quindi se temo non sono per youtube anche per lato social il sistema letto e mi resta anche e ci vediamo dopo primo video della giornata è fatto adesso mi ripondo un attimo e vi faccio vedere cosa la maglia che ha comprato mio padre ieri che ho addosso adesso presto prima ora di andare a fare la mia testa e poi faccio una breve passeggiata e poi vengo qua per girare il video di youtube prima di questo e niente ci vediamo dopo dimenticando devo anche mettere rotolare le bende le bende per oggi quindi non mi riposo in teoria comunque ci vediamo dopo ho detto sì ho preso il frappè a mango mamma mia che caldo adesso mi riposo un attimo bevo e poi faccio i video per youtube poi la sera faccio un altro video per tutto ragazzi ragazzi nel taglio ho detto sapete che ho detto l'altro clip mi riposo poi faccio i video poi faccio un altro video di tiktok ragazzi ho mangiato ho fatto cena ma i video di youtube non ho fatto lo faccio adesso un pro con calma devo fare cose con calma devo fare cose con calma però devo fare lo faccio devo farlo quindi troppo lo farò non so quando ma farò voi non potete capire ho girato il video di youtube e ho registrato per la prima volta seduto sul mio letto ho voluto fare una prova e mi piace quindi lo farò anche domani dopo domani sempre fare i video sul letto io come mio padre sto diventando che dico le cose o di cose che fermano un'altra cosa invece non lo sono e niente adesso mi lascio ancora e poi faccio l'ultimo video della giornata a dopo in realtà non lo faccio il video perché è mezzanotte quindi non lo faccio e vi saluto qua quindi se il video vi è piaciuto mi dette un like iscrivetevi al canale e se volete vi tagliate e se volete vi tagliate perché avete un'intasona ciao alla prossima